Dalla Calabria alla Svizzera il ritorno, un viaggio che unisce due mondi per un interessante scambio culturale e imprenditoriale. Gli scenari di riferimento sono Rich e Amaroni, teatro di importanti incontri tra ecocontadini calabresi da una parte e aziende elvetiche potenzialmente interessate all'import dei prodotti agroalimentari di qualità made in Italy dall'altra. La regia di questa meritoria iniziativa unica nel suo genere porta alla firma di un noto giornalista enogastronomico di Catanzaro, Domenico Cosentino. Una vita spesa in Svizzera nel mondo del lavoro e un legame che trascende i confini sempre forte con la sua terra d'origine, la Calabria. Dopo aver organizzato un primo evento a Risce nella frazione di Reutkreutz con stand e degustazioni, Sulla spinta di un gemellaggio ventennale con il comune di Amaroni, a ottobre si replicherà in provincia di Catanzaro, dove si apriranno le porte agli ospiti in arrivo dai cantoni elvetici. In totale saranno 50 persone che arriveranno qua, saranno ospiti. Parleremo un po' dei rapporti non solo di emigrazione culturale, ma per la prima volta ad Amaroni si aprirà il primo forum economico calabrese-svizzera al fine di poter iniziare e poi prolungare uno scambio di prodotti nostri che dovranno essere presenti in Svizzera come l'olio, la pastella di pomodoro, la farina, i nostri salumi, i nostri formaggi, che a mio avviso, dopo essere stato là tre giorni, mi sembra siano tanto molto molto stati apprezzati e piaciuti. A Risce e Rotkreutz hanno fatto tappa gli ecocontadini calabresi guidati da Giuseppe Bova e una delegazione amaronese capeggiata dal sindaco Luigi Ruggero. Ma chi sono gli ecocontadini calabresi? Gli ecocontadini calabresi chi sono? Sono un gruppo di giovani, quasi tutti laureati, che lavorano controcorrente come si è fatto fino ad oggi. Cioè loro dicono continuamente, quando mi hanno chiamato per fare scrivere sia lo statuto che anche il disciplinare, hanno detto basta con le culture intensive, industriali, noi vogliamo una Calabria pulita, biologica e viviamo in un momento in cui la biodiversità in tutto il mondo sta andando a malore con tutti i pesticidi. Noi diciamo basta, facciamo piccole cose pulite, buone, belle e salutare sia per tutte le famiglie ma per tutti coloro i quali vogliono non diventare ammalati. Voglio dire, non si può, quando si va oggi nei grandi negozi devono capire i consumatori che all'interno c'è molti veleni, qualsiasi cosa essi comprano, mentre questi sono pulite, questo è lo scopo. Questo scambio non è solo un incontro di sapori e tradizioni, è un impegno per la crescita sociale ed economica della Calabria. È un progetto che nasce dal basso con l'obiettivo di creare lavoro e occupazione al sud, riscattando il sacrificio dei tanti emigrati che hanno contribuito alla ricchezza di altre nazioni europee. Un messaggio che oggi riecheggia ben oltre le colline calabresi. Sì, penso di sì, partita dal basso, noi non abbiamo, fino adesso ho chiesto aiuto a nessuno, abbiamo incominciato da soli, ci siamo autotassati, io pur non avendo, ho avuto la sfortuna di non avere un campo dove poter produrre qualcosa, mi sono anche io iscritto come fondatore, do la mia mano d'aiuto. È logico che un'attenzione maggiore dovrebbero avere quelle che hanno le istituzioni, voglio dire, parliamo sia del Gall, ma parliamo anche della provincia, della regione, vedere che questi ragazzi rimangono qua fra gli appennieri, rimangono fra questi paesi meravigliosi che sono la cultura della Calabria, perché a mio avviso dovessero sparire questi paesi, perché sembrano mai deserti, migliaia di case vuote, svuote, i giovani se ne vanno. Voglio dire che adesso ne ho incontrate minimo 400 nuovi giovani a Zurigo, sono tutti ricercatori, la prima parte sono calabresi, ricercatori e dottori in medicina, sono quasi 420, dunque noi investiamo migliaia di euro per istruirli e poi ne tra beneficio i paesi europei o non europei come la Svizzera. Questo non vorrei dire che è una maledizione, come diceva pure mia nonna, e anche i nostri figli continuano ad andarsene e questo vuol dire impoverimento di tutta la nostra terra calabrese.